Noi stiamo iniziando a fare in questi ultimi giorni un tour sui luoghi simbolo della città. Luoghi simbolo che in realtà sono stati abbandonati, devastati per l'inguria di una classe dirigente che fino adesso ha gestito l'amministrazione comunale. Era ad uso dell'amministrazione comunale che ci ha preceduto di inaugurare dei contenitori per poi richiuderlo, giusto per dire alla città che noi abbiamo fatto quest'opera ma che poi non poteva servire. La cosa più brutta e più drammatica è che questo è un parco bellissimo che si estende per 120 mila chilometri, costeggia il Fenestrelle e nello stesso tempo oggi era diventato il fiore all'occhiello della nostra città. Basta che si va sul sito di Wikipedia e si vede e quindi abbiamo fatto una figura bruttissima, però non usano altro termine, a livello planetario di una struttura devastata, di una struttura non utilizzabile. Peraltro è stata anche sequestrata per la mancanza dei bagni, dei servizi igienici, è una struttura abbandonata a se stesso perché la Giunta di Nunno in realtà aveva, che bisogna riconoscere comunque alle persone quello che hanno fatto, penso in questo modo, aveva trovato i fondi e l'aveva realizzato, chi invece aveva il compito più semplice che era quello della gestione non l'ha saputa gestire. Uno dei motivi per i quali sono venuto a testimoniare questo fatto proprio al Parco Santo Spirito è che io ho intenzione di ripigliare la prima vocazione, l'originale vocazione di questo parco, cioè destinare a campi di rugby, campi di calcio, campi di tennis, fare lodging e in più iniziare a parlare anche di piste ciclabili all'interno e far sì che questo diventa il vero punto di aggregazione della città, un punto pulito, un punto dove si respira l'aria pulita. A questo vorrei aggiungere che dobbiamo mettere a reddito queste strutture che vedete, che in realtà possono essere sia a livello di ristorazione, di bar, possono essere una fonda di reddito non indifferente per l'amministrazione comunale, ma nello stesso tempo in realtà diventare il primo luogo di aggregazione della città. I giovani devono sapere che venendo qua hanno la possibilità di vivere una vita diversa dalla città, si aggregano meglio, possono realizzare le loro attività sportive, ma il problema è che dobbiamo fare in modo che questo parco diventi ancora e diventi subito il parco della città che tutti ci hanno invidiato. Ecco perché ho voluto precisare e fare questa intervista proprio in questo luogo, proprio per testimoniare il mio interesse e la mia presenza qua, anche perché, devo dire, se il Comune aveva un minimo di intenzione di portare a una gestione diversa questo parco, poteva utilizzare anche quelli dipendenti dell'ACS che potevano tranquillamente badare alla manutenzione del parco, o addirittura si potrebbe arrivare anche a un'attività mista dove la parte meno reddituale la posta la può gestire al Comune, quella più reddituale il privato, però il privato deve corrispondere chiaramente a un importo maggiore al Comune che gliela cede. Insomma queste attività devono essere messe a disposizione del cittadino e realizzare quanto più possibile una fonda di reddito per la città. A questo volevo solo aggiungere che noi di fronte abbiamo l'ex Convento San Generoso dove stavano i vigili urbani, che ha un accesso diretto sul parco. Una delle mie intenzioni è quella di creare all'interno del San Generoso una foresteria dove i giovani d'estate e anche i ragazzi possono fare dei campus estivi in un'area pulita, libera, tranquilla, dove oltre a loro possono stare anche insieme ai genitori, possono addirittura dormire creando della stanza nel Convento di San Generoso e quindi fare qualcosa di utile per la città, per i giovani ma soprattutto anche per le famiglie che vogliono stare un po' tranquille. Grazie a tutti!